Inauguriamo oggi questo allestimento dedicato a una collaborazione che ci sta davvero molto a cuore. La collaborazione tra la nostra orchestra, il Comune di Pesaro, Città del Vaticano e il Giappone stesso. Nel decimo anniversario dello tsunami abbiamo pensato, oltre che di organizzare un concerto al Teatro Rossini, che è andato in onda qualche giorno fa, anche di allestire uno spazio espositivo nello spazio Sora. Qui in via Rossini, vicino al Sessorato della Cultura, vicino alla Casa Rossini, ci si potrà affacciare e provare ad assaporare un po' degli elementi che hanno caratterizzato questa collaborazione. Quindi i grandi concerti nelle grandi sale giapponesi, i momenti di commemorazione nei luoghi colpiti dallo tsunami, proprio ai memoriali vicino a Sendai, e poi i fiori di ciliegio, simbolo evidentemente del Giappone, della rifioritura che in giapponese si dice Anami, ed è proprio da questa tragedia dello tsunami che poi è nata una bellissima collaborazione. E poi ci saranno anche dei servizi da te, perché vogliamo rendere omaggio alla città gemellata con Pesaro, Kakegawa, che per 16 anni consecutivi ha vinto il primo premio come miglior te artigianale del Giappone. Quindi per noi è davvero un simbolo di amicizia questo allestimento, invitiamo tutti ad affacciarsi, ad ascoltare qualche nota e ad assaporare i tratti di questa bella collaborazione. C'è un rapporto forte con la città di Kakegawa, che è la città a cui ci siamo legati in un gemellaggio, grazie anche all'orchestra sinfonica Rossini, che organizza con noi questa mostra documentale, anche di tributo al Giappone, grazie al fatto che è confinante con la città di Kakegawa, Kakegawa c'è anche a Mamatsu, che è città unesco della musica come noi, con cui quindi abbiamo rapporti. Basti pensare che la Yamaha strumenti musicali è a cavallo tra le due città. I pianoforti vengono prodotti a Kakegawa e il resto della fabbrica, compresa il moto, ad Mamatsu. Quindi è un legame anche artistico, ma anche storico e produttivo per noi molto importante e che custodiamo con orgoglio. È fatto di tanti incontri, ogni anno ci sono delle tournee della nostra orchestra in Giappone, il loro coro è venuto qua e sarebbe voluto venire anche quest'anno, non potendoci incontrare. Abbiamo mandato dei video ovviamente per testimoniare dei vari concerti digitali che si tenevano, ma soprattutto in attesa di riavere gli amici giapponesi a Pesaro quando tutto questo sarà finito o meno problematico. Abbiamo dedicato questo spazio, un omaggio da qua, per appunto tenere vivo questo rapporto, raccontare la nostra amicizia e soprattutto darsi appuntamento alle riaperture per rifare circolare artisti, ma anche cittadini e anche imprenditori, perché poi questo è un rapporto che ha generato anche scambi economici tra Pesaro e Giappone.